Siamo con Luca Macoratti, presidente FIAIP Udine. Oggi si presenta l'Osservatorio Immobiliare 2023. Qual è la situazione in città e in provincia? Buongiorno a tutti. Finalmente questa spiega location rifacciamo dopo 5 anni l'Osservatorio Immobiliare di Udine. I dati sono abbastanza buoni. Siamo abbastanza soddisfatti perché piuttosto sommato c'è una tecnica. Abbiamo una leggera pressione per quanto riguarda la provincia, tra l'1 e l'8 e l'2, il punto negativo, e un aumento per quanto riguarda l'investità di Udine. Anche se non c'è, è comunque 0,8 e 1,2. E qual è un po' la tendenza, la tipologia di abitazione più ricercata? Rimane sempre e comunque in questo momento ancora la casa con giardino o degli appartamenti con dei spazi esterni, dei terrazzi e dei spazi esterni. Sta aumentando l'inchiesta del mini appartamento, questa è un po' la conseguenza dell'aumento dell'inflazione, quindi in conseguenza si ripona ancora una volta la casa come bene rifugio di un anno. Ecco, ultima cosa, dove andrà insomma il mercato? Quali sono le prospettive per il futuro? Diciamo che la prospettiva del mercato è un futuro sempre più green, quindi la tendenza è quella di andare a cercare di acquistare case energeticamente, un'erogigua, la tendenza, il primo trimestre c'è un attimo di pressione rispetto all'anno precedente.